Dottor, mi sto scordata di dire una cosa, quando io mi guardo allo specchio, non so, mi sento un po' tutta abbattuta, non so, mi sento, dottor, no, papale, papale, quando io mi guardo allo specchio, mi viene l'urto del vomito, che cosa vuol dire? Vuol dire che la sua vista è ancora perfetta, signora.